midland e rcf due realtà d'eccellenza italiane leader nella comunicazione in moto e nell'audio professionale da oltre 60 anni nasce un prodotto senza precedenti che garantisce il massimo delle performance in qualsiasi condizione d'uso la migliore tecnologia possibile per una qualità mai raggiunta prima massima chiarezza massima definizione preparati a vivere un'esperienza sonora che supererà ogni tua aspettativa se quello che cerchi è la perfezione il nuovo sistema audio filmato rcf è la risposta midland ed rcf the sound of perfection